bella tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi sesto giorno di vacanze mamma mia amore mio è già il sesto giorno di vacanze sei contenta porca miseria come vola amore mio però sono felice perché fra poco torneremo dai ragazzi a fare le live beh certo stare al mare fare le live al mare sarebbe poi una cosa eccezionale va bene ragazzi miei anche oggi ragazzi sesto episodio dedicato alle 2v2 con la pami vediamo un pochettino come cercare di proteggere il le sue giocate il suo super gente ragazzi il deck che ho sviluppato è questo qua pipistrelli torre inferno sfera di fuoco princess tronco cavaliere hog rider e spirito del ghiaccio tu amo con che deck giocherai devi parlare qua nel microfono mi sentono mi sentono brava se parli ad alta voce brava brava vai 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 giant palla di fuoco strega normale mago di ghiaccio gang di goblin hai ragione hai ragione arcieri frecce e sgherri meravigliosa ragazzi la pami che rimane sempre dentro nel personaggio ragazzi stiamo registrando da casa ma lei pensa che siamo in vacanza bravo amore mio no tu pensi che sei in vacanza si ma lo sanno che stiamo registrando ah ci sentono in tutto l'albergo vai 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 mandami la 2v2 vai vai mandami la 2v2 vai vai mandami la te non posso entrare nella lista di amici lo sai che non posso non te la sto annullando sei corona io per caso 4 lo vedi dai mandala mandala dai dark lady vai dentro così dentro così sempre grandi problemi cerca di rientrare nella webcam cerca di rientrare vai e andiamo subito a fare questa 2v2 lei fa quello che vuoi ragazzi d'arc lady meravigliosa come sempre uguale che non ti vedono stai più in dentro stai più dentro che non ti vedono brava sì sì lo sappiamo però è meglio che ti vedano per questioni d'immagine avanti con lo spirito del ghiaccio tu con cosa apri tu non apri quindi stiamo regalando di già manna su manna a questi due avversari eccezionale come al solito avanti così vediamo se io riesco a fermarli vediamo un po lei come decide di giocare bene con dietro la coppia di arcieri ok ok loro vanno tranquillamente con il mago zap noi abbiamo la princess e anche la poison dalla loro parte per danneggiare speriamo che si salva la princess ovviamente non si salva no si salva si salviamo dobbiamo proteggere quella princess assolutamente quella princess assolutamente dai 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 troppo tardi troppo tardi le frecce però bene però bene 1518 già la loro torre in alto a sinistra ci penso io qua ci penso io qua vai tranquilla tieni il mana tieni il mana gioca il giant davanti oh crystal fermali fermali non col giant gioca il giant davanti ma vedi che tirano una ghiaccio una gelo non giocare il giant davanti dai dai vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo quella princess la tronco io tu tira via il mago proteggi il giant proteggi il giant questo lo sai fare amo sai proteggere il giant dai proteggi il giant benissimo la prima è andata la prima è andata dai daiché ci siamo dai che ci siamo che la prima è andata dai che ci siamo che la prima è andata bisogna adesso chiudersi in difesa benissimo, benissimo, benissimo meraviglioso l'attacco, meraviglioso l'attacco attenzione ai luridi, attenzione ai luridi, va bene quegli arcieri mi... no, 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 dove cazzo la metti? ma perché in mezzo alla gang? ma dimmi da cosa ti ha scaturito il fatto di mettere una strega in mezzo alla gang? perché? perché? il mio problema è che perdiamo le torri, il mio problema è questo avanti ancora, 1893 la sua torre centrale, la loro torre centrale 2786, quella di destra, ancora inviolata, la nostra in basso a destra vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un pochettino più interessante sto per partire con un gigante, con un oh grider, ce la fai a proteggermelo là in basso a sinistra si è rotta l'unghia, dai andiamo, è pronto? vai vai, proteggilo grider proteggilo grider con una prince, con qualsiasi cosa basta che lo proteggi dai fa niente, dai, fermati qua perché non siamo riusciti a proteggerlo, fa niente dai che ce la facciamo, dai che ce la... 849 ok, non facciamoci tirare, brava, bellissima l'avrei giocato là a sinistra visto che era la torre 849, però ci può stare anche di là allora, facciamo così facciamo così, gent lì è già morto, è già morto no, no, no minchiamo smetti da qualche parte, basta che li metti aspetta un attimo allora, andiamo a cavaliere sopra adesso sulla princesa, sulla princesa la gang dai, 1.400, 1.400 dai, dai che la andiamo a chiudere di là dai che la andiamo a chiudere di là brava, 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 brava avanti, avanti, avanti andiamo a tirarla giù, andiamo a tirare... bello quel gen centrale, cazzo bello quel gen centrale dai, dai, 8.49 forza, forza forza amo, c'ha la torre a 189 amo, tira qualsiasi cacchio di cosa che c'hai eeeh per fortuna siamo riusciti a portarla a casa però minchia, mi fai partorire a me a giocare con te, mi fai partorire eeeh, basta, eeeh, basta mi fai partorire, mi fai... va bene ragazzi, nella prima partita siamo riusciti a vincerla, vediamo adesso di farne un'altra vediamo un po' come vada, vai sempre con lo stesso deck vai, manda la 2v2 mi raccomando amore mio, cristo santo non giocare la strega normale non la puoi giocare in mezzo alla gang la gang, se ce l'hai giocala sulle sue truppe centrali cerca di accercare un tank con la gang non giocargiela in bocca vai allora, vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo con la seconda 2v2 amo, stai dentro la cam che i ragazzi non ti vedono questo non la mandi sì, sì, che la mando vai, avanti così avanti così allora farà 10 una regola sì, va bene dai vai con la princess vai allora, princess dietro loro giocano la gang ci penso io tranquilla ma tu perché non stai giocando? me lo spieghi perché non stai giocando? non possiamo regalargli l'elisirco me faccio e cazzo continua a dirtelo non lo capisci io non parlo italiano no, non mi parli italiano eh, meno male perché ho notato che mi sembra che fai fatica a capire certe cose porca miseria porca dai guarda che ha già già giù due principesse questi qua andiamo di là col domattolo bene brava brava questa è una bella giocata questa è una bella giocata lascia perdere lascia perdere lascia perdere lo grinder dai 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 andiamo a tagli giù no mi spieghi perché oh se ti sta bene gioco così se non ti sta bene fatemi una ragione sì ma no mi faccio una ragione perché non riesci ancora a capire come posizionare le carte questo non riesco a capire perché si vede che non è che lo amo come te e allora cosa cacchio lo giochi a fare sono fatti miei no sono anche fatti miei visto che sto giocando con te dai vediamo e cazzo tu ci sei con chi è che lo devo fare dai mia sorella non gioca al clash royale vai no 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 le frecce no le frecce lì minchia che parto ogni volta che parto ogni volta e anche te se giochi bene mi fai un piacere però dai vediamo se siamo a mettere via la prince siamo messi quasi di merda però va bene già hanno giù un'altra prince dobbiamo fare qualcosa è pronta la mia palla di fuoco sulla sua prince se non appena loro giocheranno qualche truppa centrale non la giocano andiamo a perdere uno di mana per tirarla via andiamo a perdere uno di mana per tirarla via ebbene lo spirito del ghiaccio per congelare brava che non hai giocato la gang una zap non ce l'hai no non ce l'ho la zap non permi cazzo giochi col gigante senza zap si ok no non è ok è un problema è un problema allora giocati quello che vuoi te perché io devo mettere la zap perché il gigante ha la torre inferno ovviamente se c'è una torre inferno ma non deve fare male la zap deve aiutarti nei momenti di bisogno deve aiutarti non deve fare male minchia minchia tutto ti devo spiegare vediamo se riusciamo a fare qualche cosa vediamo se riusciamo a fare qualche cosa andiamo a fare così 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 e così dai amo fermali fermali amo dai amo fermali fermali amo ok vai che ripartiamo vai che ripartiamo amo quelle due princess là quelle due princess là amo quelle due princess là non c'ho niente non c'ho le frecce Minchia 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 Via così No no gli sgherri Perché gli sgherri me lo spieghi Dai dai guarda il giant Guarda il giant che perlomeno è entrato Sì 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 però dai Madonna Madonna Ferma ferma lì il barile Ferma il barile Minchia che ansia Che ansia Dai 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 ok Non giocare se non sei pronta Vabbè andiamo a perdere così Va bene ragazzi allora per questa sesta puntata Direi che è veramente tutto come al solito Abbiamo fatto le peggio giocate Ma voi ragazzi siete qua a vedere le peggio giocate Per rendervi conto che siete sicuramente più bravi di noi A giocare E quindi io vi ringrazio tantissimo ragazzi Per aver visto anche questo video Spero che lasciate un bel po' di pollicioni Per far abbassare il livello di arrabbiatura della PAMI E farle alzare il livello di gameplay E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao